Eh, pardonne-moi. Oui, monsieur. Eh, parlez-vous anglais? Un petit peu, monsieur. Ah, bene, bene. Io sono canadese. Oh, canadese. Sì. Franco-canadese. No, no, anglo-canadese. Eh, sono venuto qui per capire l'alto prezzo dei vini francesi. Sì, molti hanno raddoppiato o triplicato i prezzi ultimamente. Oh, la, 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 la. Lei può spiegarmi il motivo di tutto ciò? Oh, ma come potrei mai, monsieur? Io sono solo un contadino che lavora nei campi. Sì, ma c'è qualcuno che sta giocando brutti tiri sul mercato dei vini. Oh, non guardi me. Sono solo un contadino. Guardi il mio pasto, eh. Un po' di formaggio, un po' di vino, un po' di pane. Ne vuole un po'. Ah, molte grazie. Oh, è squisito. Eh, che cos'è? Chevron. Eh, che cosa sarebbe? Caprone. Formaggio di maschio. Va, Agusti. Sì, ma continuo a non capire, monsieur. Il prezzo dei vini è ormai alle stelle. Chi è che si prende i soldi? Eh, magari lo sapessi. Mi scusi, eh, ma ora devo tornare al mio lavoro nei campi. Marcel! Grazie, caro. Oh, ho, 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 ho. Un'ottima annata per le automobili. And now, ladies and gentlemen, we present the two and only Wayne and Shuster. Starring Johnny Wayne. And his good buddy, Frank Shuster. And here they are.